Io, Luca Merda, non ho problemi a dirla in capociato. Io, certe cose, io, a Masini, ho detto certe cose. Io ero in zitti, mi ero in zitti, mi ero in zitti. Fa certe cose. Fa certe cose. E invece mi rimane dietro. Non era quello che si voleva, siamo nel playoff, cosa vuole la gente a me? Non era quello che si voleva. Si arriva, si gioca tutta l'ultima tre giornate. Cos'è quello che la gente... Non mi interessa nulla. Non mi interessa nulla, non me ne frega nulla. La gente ha chiesto, no? La gente mi ha detto, Pietro, faccio se passo, ci si prova, ci si prova sempre. Io cosa devo fare?